Ad aprile i prestiti bancari al settore privato sono cresciuti dell'1,4% su base annua, come a marzo. Lo rende noto la Banca d'Italia. Nel dettaglio i prestiti alle famiglie sono aumentati dell'1,1% sui 12 mesi, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,7%. I depositi del settore privato sono cresciuti del 6,8% su base annua, contro il più 5,7% di marzo. Le sofferenze sono diminuite dell'11,4% sui 12 mesi, mentre a marzo il calo era stato dell'11,1%. Un nuovo progetto editoriale per Parmigiano Reggiano si chiama Scaglie ed è dedicato alla valorizzazione del territorio e della sua comunità. Si parte con cinque contenuti legati al tema dell'apertura. Il presidente del consorzio Nicola Bertinelli spiega il senso di questa iniziativa. Da oggi è online Scaglie, il nuovo progetto editoriale del Parmigiano Reggiano. È una piattaforma multimediale dove incontreremo non solo il prodotto ma soprattutto la comunità e il territorio del Parmigiano Reggiano. Sì, gli italiani e i cittadini del mondo conoscono il formaggio parmigiano reggiano ma non conoscono tutto il mondo che c'è dietro, il legame tra il territorio e la sua comunità che fa sì che il Parmigiano Reggiano sia molto di più di un pezzo di formaggio e lo ha reso il formaggio più importante del mondo. Quindi vedremo video, immagini, interviste di tutto quello che il territorio del Parmigiano Reggiano è in grado di dare. L'abbiamo chiamato Scaglie perché? Perché la scaglia è diversa da tutte le altre, però l'insieme delle scaglie fanno il prodotto. Quindi saranno tante pillole, tante scaglie di Parmigiano Reggiano. 50 miliardi per aiutare il Paese a uscire dalla crisi, ma anche la richiesta di modifiche normative che agevolino l'operato delle aziende, come la sospensione del codice degli appalti. Alessandro Russo, vicepresidente di Utilitalia, nonché presidente e amministratore delegato del gruppo CAP, traccia in un'intervista all'Ital Press un bilancio dei difficili mesi passati per le imprese del settore idrico. Noi abbiamo detto al governo che siamo pronti a mettere in campo 50 miliardi di euro gli investimenti, che vorrebbe dire far ripartire l'economia o quantomeno dare il nostro contributo. Gli investimenti in Italia troppo spesso non si fanno per via delle normative, per via di leggi troppo lente che mettono in difficoltà aziende come le nostre nel portare avanti i propri obiettivi. Quindi abbiamo chiesto al governo, non soldi, perché a noi non servono soldi, abbiamo chiesto al governo norme, o meglio, non norme, qualcosa che ci aiutasse a agevolare come ad esempio la sospensione del codice degli appalti o alcune attività di questa natura. Devo dire che ho notato con piacere che anche il lavoro fatto dal gruppo di esperti guidato da Colà avanza le richieste che in qualche modo sono molto simili a quelle che la nostra sostituzione ha sollevato. Dal 1 luglio cambiano in Italia i limiti per l'uso del contante, previste sanzioni per chi trasgredisce. L'economista Gianni Lepre ci illustra le novità del provvedimento. Dal 1 luglio 2020 ci sarà una svolta restrittiva per quanto concerne l'uso del contante. Infatti il contante sarà consentito usarlo soltanto fino a 1999,99 euro. Ricordiamo che la soglia precedente era di 2999,99. Tra le altre cose dal 2022 la soglia passerà, scenderà addirittura a 999,99. Quindi dal 1 luglio per i pagamenti da 2.000 euro in poi sarà possibile effettuarli soltanto per via tracciabile. Quindi bonifici, assegni bancari, assegni circolari, carte di credito. Ricordiamo che controavvenire a questa regola significa andare incontro a sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.